Le eccellenti prestazioni della Brauno sono il risultato di un pacchetto aerodinamico efficiente. Il muso rappresenta un vero e proprio esercizio geometrico. Pianialari e pin definiscono un percorso dei flussi capace di produrre la massima deportanza minimizzando le dispersioni di resistenza all'avanzamento grazie a delle lavorate parati verticali. Decisamente innovativa la soluzione a sbalzo ancorata al muso per tutta la sua lunghezza che partecipa attivamente nel lavoro di trattamento dei flussi. Gli specchietti retrovisori utilizzano un doppio profilo aerodinamico come elemento di sostegno ed ancor più ricercata la soluzione adottata sotto la presa dinamica con carenature per mantenere i flussi aderenti al cofono motore. Pance basse rastremate al retrotreno con terminali di scarico che prevedono un soffiaggio dei gas combusti subito sopra il puntone di reazione.